Un'attività che è percorso di vita prima che sportivo, alzando l'asticella della sfida per portarla su valori universali che vanno ben oltre il lato agonistico. Lo sport paralimpico trova a Napoli un'importante vetrina con i campionati italiani assoluti di nuoto paralimpico, organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e dall'ASD Nuotatori Campani, insieme con il Comune di Napoli e il Comune di Portici. L'appuntamento è per questo fine settimana alla piscina Scandone, 95 gare con 200 atleti di 55 società sportive, per dimostrare che lo sport non conosce disagi. Avere a Napoli, alla piscina Scandone, dei campionati italiani assoluti è per noi un motivo di grande davanti. Da sempre noi abbiamo voluto che la Scandone fosse una piscina di eccellenza e quindi avere dei campionati italiani è una grande occasione, è una grande festa. In particolare avere questo tipo di campionato dove noi riteniamo che il campione è colui che riesce a superare il proprio limite, a capire qual è il proprio limite e a superarlo ogni volta. Durante il periodo estivo la piscina va in manutenzione. Abbiamo preferito spostare il giorno della chiusura proprio per rendere possibile questo bel evento. Ringrazio anche Napoli Sociale che si occuperà del trasporto dei 400 disabili che arriveranno a Napoli. È il secondo anno che questo evento si compie alla Scandone. Ne sono orgogliosa, ne sono fiera e speriamo che l'anno prossimo possa aumentare anche nei numeri.